L'isolamento forzato disposto per contenere la diffusione del covid-19 rischia di avere conseguenze pesanti per le aree interne della regione. Michela Barillari. Se l'emergenza coronavirus e le misure cui ha costretto tutta Italia rischiano di avere ricadute pesanti sull'economia nazionale, per le aree interne del paese le conseguenze potrebbero essere letali. I provvedimenti sono stati presi da meno di 10 giorni, però quello che possiamo prevedere è che gli effetti saranno particolarmente pesanti per le aree interne, ben più pesanti di quanto sono stati i terremoti. Se sono più scontate le conseguenze legate al venir meno di presenze turistiche e allo stop di quasi tutte le attività commerciali, non meno pesante è il possibile allentamento delle relazioni, con la chiusura di tutti gli spazi di socialità, come bar o circoli. Tra le strategie di lancio e valorizzazione delle aree interne, infatti, un ruolo importante ha sempre avuto il rafforzamento dei legami tra le persone, incoraggiando anche forme di gestione associata dei servizi. E in una popolazione per lo più decisamente anziana, anche il ricorso ai social per mantenersi in contatto può non essere sufficiente. Ci sarà effettivamente il problema di questa cesura delle relazioni sociali che sono il collante di queste aree interne, quindi assolutamente è un campo su cui le politiche pubbliche devono cominciare a ragionare immediatamente e devono farsi carico di questo tipo di problematiche.